Un bel 3-0 secco, avete giocato secondo me molto bene, venivate comunque da un periodo dove non avete giocato tanto, però dove avete giocato avete vinto. Sì, trovavamo la partita, siamo stati subito battuti dal primo set, infatti avevano proprio voglia di vincere, ma noi come una volta ci mettiamo sotto e cerchiamo di recuperare, infatti poi il secondo e il terzo set sono andate un po' meglio rispetto al primo. E così è una volta, anche quando siamo sotto, vogliamo andare avanti, quindi iniziamo tutte le partite. È stata molto combattuta, forse un 3-0 inaspettato, perché comunque siete sempre riusciti a chiudere avanti nonostante i tentativi di forte sempre tutte le volte di rientrare. Sì, poi appunto rientriamo da un periodo dove abbiamo fatto un sacco di partite, anche le partite della Coppa, quindi ogni volta facciamo un bel campionato invernale e ogni volta dobbiamo metterci lì con la testa e cercare di andare avanti, anche se non è facile, le partite comunque lo spazio che facciamo, perché è sempre che questo dipende da cucina nazionale. Appuntate al primo posto del primaverile? Sì, si deve fare anche un'epoca. Grazie.